L'ha startato l'amico, capito? Tipo lui Marzo, non stavano tanto fuori mentre hai iniziato eh Hanno preso fuoco tutti i pacchi Ragazzi è una roba, questa è una roba inquietantissima Nessuno si fa male sicuro perché se ne sono andati nell'altra Ma perché? Perché? Nessuno si fa male, frate Frate, questa è una di quelle scatole che ha fatto quel casino una Non so quanti roba di nitroglicerina c'è qui in una stanza E' saltata in aria tutta la casa Ma non è da sparo però Porca troia No, vabbè regà Scusami, ma a Beirut A Beirut Te la ricordi quella? Aspetta un attimino Cioè questo è da bannà Certo che è da bannà Questo è da bannà, frate Mr. Beast ci fa anche una figura di merda Nella unpause ogni volta fanno sta guerra dei fuochi d'artificio A Beirut quando è esplosa quella fabbrica di fuochi d'artificio Non era più proprio lo stesso principio No però vabbè Vabbè erano migliaia di più certo Però non poteva esplodere Hai visto il video dell'onda adulto di quel robo? Si no era inquietante Si no era inquietante Quello è inquietante Così L'hanno fatto pure su Joe Pop il video Bannare per cosa? Boh vabbè regà tenete conto che è bannabile l'autolesionismo Questo porco dio Cioè quello è follia E' comunque una situazione dove metti in pericolo la vita tua Cioè in stream Giustamente per testare proviamo sempre a segnalare la streamia così nel cazzo Cioè regà Cioè Incoraggiare altri a compiere atti di autolesionismo Amminacciato gli atti di autolesionismo Autolesionismo Cioè ce ne stanno dicio Scherzi Ragazzi c'è regà Scherzi pericolosi Contenuto violento estremo Questo comunque è il grave Questo è il problema dell'America A prescindere che poi abbiano fatto un certo tipo di roba o meno Questo è il problema dell'America Cioè è una ricerca infinita dell'America Delle esagerazioni Cioè Forse era scriptata sta scena No ok Frate Ma può essere Oh allora O mi dici Che hanno fatto un set Che era la casa di Kaisenat Era Questa era un set da qualche parte E non era in realtà casa di Kaisenat No ma Possibile Possibile Era la sua Allora è saltata in aria Che hanno fatto saltare in aria Una casa da 5 milioni di euro Di dollari Minimo Regà 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 Dai porco dio Questa è una bomba Porco Regà Porco dio Bro Ma sai quant'è questa roba Ma non so se è saltata in aria però No Frate Ha piato fuoco tutto Posta Madonna Cioè guarda Cioè guarda come va Al fatto che sia caduta secondo me è grevissimo eh Cioè ragazzi quello è fuoco eh Quello è tutto fuoco Quello è tutto fuoco Cioè sta andando tutto a fuoco No